In questo video andremo a vedere come sbloccare tutte quante le ricompense gratuite di Naruto del nuovissimo aggiornamento qui all'interno di Fortnite. Qui sul canale vengono fatti ogni giorno dei regali agli iscritti che includono nuove skin, cosmetici e anche il nuovo pass battaglia. Se anche tu avrai la possibilità di vincere un regalo è molto semplice. Iscriviti attivando la campanella, commenta qui sotto con il tuo ID Epic ed inoltre per supportare il canale utilizzi il mio codice creatore Dacini all'interno dell'item shop di Fortnite e se ti va mandami la foto taggami su Instagram così ti andrò a ripostare. Ma prima di iniziare andiamo a regalare questa bellissima skin della collaborazione tra Fortnite e Naruto esattamente il personaggio di Sasuke proprio ad un fortunato fra di voi che ovviamente è iscritto al canale con la campanella attiva lascia sempre un bel like e non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Il fortunato è di oggi esattamente lui, SuperLeone13 quindi andiamo a selezionare la scatola, mettiamo questa qui rossa facciamo conferma, acquisto un dono in vedo regali in corso e vediamo se gli arriva questa bellissima skin ed ecco qui dono inviato quindi spero che ti diverta con questa bellissima skin di Sasuke ed inoltre se ti va puoi supportare il canale utilizzando il mio codice creatore Dacini qui all'interno del supporto un creatore di Fortnite se li inserisci mandami la foto, taggami su Instagram così ti andrò a ripostare. Quindi partiamo subito e come ben sapete esattamente questa settimana abbiamo ricevuto l'ultimo aggiornamento di questa season e probabilmente anche di questo capitolo 2 infatti questa patch ha implementato un sacco di contenuti sulla prossima season barra prossimo capitolo, un sacco di info sull'evento finale che avremo a fine season e soprattutto è stata anche implementata la nuovissima collaborazione tra Fortnite e Naruto fatemi sapere se vi sta piacendo questa collaborazione e come già detto in questo video andremo proprio a vedere come ottenere le nuovissime ricompense gratuite di Naruto che sono davvero molto molto interessanti quindi mi raccomando guardate il video dall'inizio alla fine per scoprire tutte quante queste ricompense e come fare per andarle a sbloccare prima di vedere le ricompense ricordo che è stato anche inserito il boss a tema Naruto, diciamo l'NPC a tema Naruto in mappa eccolo qui lo possiamo trovare esattamente in questo punto e se andiamo da lui che è proprio Kakashi appunto si trova in questa zona di mappa proprio sopra Brugher e Brumose possiamo anche prendere i suoi kunai esplosivi ad esempio qui non ci sono perché siamo in laboratorio della battaglia ma come potete ben vedere da questo gameplay a schermo ecco come sono fatti i suoi kunai esplosivi quindi per ottenerli dovete venire da questo NPC in partita e per 150 di oro se non erro potrete usufruire, potrete utilizzare questi kunai esplosivi fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto se avete già provato questi kunai esplosivi che sono molto molto interessanti praticamente possiamo lanciarli e una volta lanciati esplodono e fanno anche un bel po' di danno quindi un'arma molto molto interessante ma partiamo subito andando a vedere le nuovissime ricompense di Naruto perché siamo proprio spostati all'interno di questo sito di questa pagina di Fortnite dove si va proprio a spiegare come fare per ottenere queste ricompense quindi andiamo subitissimo a leggere ottieni oggetti di Fortnite completando le sfide di The Nindo dovrebbe dirsi in questo modo quindi seguendo il suo Nindo Naruto riesce a superare grandi ostacoli ora ti proponiamo di partecipare a una serie di sfide infatti questa serie di sfide potremmo ottenere anche il deltaplano Kurama che sarebbe questo deltaplano che nello shop costa 1500 V-Bucks qui lo potete ottenere gratuitamente infatti dal 17 novembre alle 10 su esattamente da ieri alle 10 fino al 22 novembre alle 6 ore italiana i giocatori avranno la possibilità di completare le sfide di The Nindo per ottenere ricompense nel gioco andiamo a vedere come fare per appunto ottenerli infatti andiamo nel sito di The Nindo e qui potremo registrarci infatti come potete ben leggere qua ci viene scritto Fortnite per Naruto il Nindo gioca a Fortnite ottieni ricompense favolose infatti dovremmo fare ben 3 passaggi dovremmo accedere giocare a Fortnite e ottenere il compenso quindi ecco qui abbiamo ancora un bel po' di giorni quindi ovviamente fate accedere accedete col vostro account perfetto una volta fatto l'accesso vi porterà questa schermata e come si va a scrivere partecipa ogni giorno per l'opportunità di ottenere la ricompensa del giorno infatti questa è la sfida di Naruto di oggi e la sfida di Naruto esattamente di fare un'eliminazione quindi basta semplicemente fare un'eliminazione cioè guadagnare un punto e potremmo ottenere questo emoticon e se andremo a fare ben 35 punti cioè fare 35 eliminazioni ci andranno a dare anche questo del tablano e questa schermata di caricamenti infatti sblocca la ricompensa chiave di oggi la ricompensa chiave sarebbe fare 35 punti cioè 35 eliminazioni per ottenere il deltaplano e la schermata di caricamento in modo gratuito quindi è molto molto semplice facendo un punto otterrete l'emoticon facendo 35 punti cioè 35 eliminazioni in un giorno potrete ottenere la schermata di caricamento quindi è molto molto semplice basta recarvi su questo sito che vi sto facendo vedere qui sopra recatevi su questo sito registratevi e ogni singolo giorno completate le missioni per ottenere l'emoticon tutte quante queste ricompense che sono ben 6 ricompense abbiamo ben 4 emoticon più il deltaplano e la schermata di caricamento quindi mi raccomando correte a completare queste missioni perché avete tempo solamente fino al 22 di novembre perché il 22 di novembre andranno ufficialmente a scadere prima di continuare andiamo a ringraziare ben 3 persone che mi hanno mandato la foto o taggato su instagram mentre hanno inserito o shoppato qualcosa col mio codice creatore daccini quindi grazie mille a queste 3 persone che starete vedendo in questo momento a schermo ovviamente per supportare il canale e mi raccomando se anche voi volete essere ripostati o nei video o all'interno di instagram mandatemi la foto o ancora meglio taggatemi su instagram in questo modo vi andrò a ripostare quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno in questo modo potrete supportare il canale e grazie mille ancora ai 3 ragazzi di oggi quindi fatemi sapere se voi andrete a completare tutte quante queste missioni ogni giorno di questo nuovissimo evento fornet per naruto alla fine sono davvero semplicissime basta fare un punto ogni giorno per ottenere tutte quante le ricompense e se faremo 35 punti in un solo giorno otterremo anche il deltaplano insieme alla schermata di caricamento fatemi sapere se voi andrete a partecipare quindi queste erano tutte quante le nuovissime ricompense gratuite di naruto fatemi sapere se voi le andrete a sbloccare ricordo avete tempo ancora fino al 22 novembre alle 6 ore italiane per appunto ottenere tutte quante queste ricompense quindi queste erano tutte quante le nuovissime ricompense di questa nuova collaborazione tra fornet e naruto che già vi preannunciai un paio di giorni fa quindi questo è tutto per questo video fatemi sapere se andrete a sbloccare queste ricompense se questo video vi è piaciuto come al solito vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto cosa non meno importante condividete con tutti quanti i vostri amici fate sapere anche a loro tutte quante queste nuovissime ricompense gratuiti e di naruto qui all'interno di fornite noi ci vediamo ad un prossimo video o una prossima live